Sindaco Rizzo ha balestrato un giorno dedicato possiamo dire ai giovani, un riconoscimento per i giovani e giovani che si sono laureate nel 2018. Sì, un'iniziativa che va avanti ormai da qualche anno, una bella iniziativa che stiamo portando avanti perché diamo un riconoscimento istituzionale anche a quei ragazzi e quelle ragazze, non solo, ovviamente ragazze e ragazze che si sono impegnate nel loro percorso di vita, di studio in questo caso raggiungendo il massimo che si può ottenere concludendo il percorso accademico. Quest'anno ovviamente premiamo chi si è laureato nel corso dell'anno accademico appunto entro il 2018 con una cerimonia proprio qui al comune, quindi in sede ufficiale, in mese ufficiale, ripeto, per dare il giusto merito a chi ha impegnato la propria vita per gli studi. Questo riconoscimento rappresenta anche un incentivo e uno slancio nei confronti degli studi. Sì, per quello che è possibile fare, anche per dare un po' di visibilità a questi ragazzi, noi vedendo l'elenco dei laureati del 2018, appunto tanti sono ragazzi che si sono laureati in università anche fuori dalla Sicilia, soprattutto la grande maggioranza è gente che ha studiato fuori e che magari prova a tornare qui in Sicilia, prova a investire qua, a investire le proprie competenze e mettere a disposizione del nostro territorio le proprie competenze e le proprie professionalità. Dobbiamo dare sempre maggiori opportunità e quella di far sapere ad imprese, non solo, che c'è gente formata, laureata e qualificata, nel nostro comprensorio è sempre un dato positivo. Quindi qual è da sindaco il suo messaggio ai giovani per questo 2019? Il messaggio è quello di impegnarsi, ovviamente sempre di fare al meglio delle proprie potenzialità e delle proprie possibilità. Ci sono tante occasioni che possono essere sfruttate, dal cielo non cade nulla e dobbiamo essere bravi noi a cogliere al meglio le opportunità che la vita e le istituzioni, perché ci sono diversi finanziamenti che possono essere sfruttati, debbano essere colte al meglio. Walter, oggi un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di Balestrate, proprio per la tua laurea che hai svolto nel 2018, col massimo dei voti. Cosa rappresenta per te questo riconoscimento? È un evento importante, la fine di questa triennale in Olanda, ora mi preparo per lo studio di una magistrale in diritto internazionale del commercio. È un evento importante perché segna la fine di una triennale, l'inizio di un altro studio molto importante per la mia carriera futura ed è importante anche che il Comune in qualche modo festeggi questo evento. Cosa ti aspetti dal 2019? Un anno impegnativo, un anno di preparazione per lo studio che verrà, un anno che segnerà il mio futuro, essenzialmente perché mi devo preparare per la carriera lavorativa, un anno impegnativo perché dovrò affrontare quello che mi aspetterà nella sessione della Wismuth a Vienna e competizioni a livello internazionale come quella a Kuala Lumpur. Chiara, anche per te stamattina ho un riconoscimento per aver conseguito nel 2018 una laurea col massimo dei voti. Qual è stata la sessione di laurea tua? La mia sessione è stata ad ottobre ed è stata in International Business Management. Ho concluso il mio percorso di studi, è una laurea magistrale. Ho studiato in Lombardia e adesso sono ritornata in Sicilia avendo finito con la speranza di trovare un lavoro qui nella mia terra perché sono stata tanto tempo fuori e adesso c'è la volontà di investire nella mia Sicilia che è un grande potenziale ma ha bisogno di cambiamenti. Quindi sono pronta a questa sfida. Cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Questo riconoscimento è importante perché anche se ho abbandonato la mia terra per cinque anni e adesso vedo questo attestato, questo incomio di laurea e come ricordarsi di questi studenti che seppur fuori fanno sempre parte di una comunità. Quindi cosa dire ai giovani, ai nuovi giovani che stanno intraprendendo magari la tua stessa strada? Che ci vuole sì tanta forza di volontà ma che comunque non devono avere paura perché al di là di tutto possono sempre ritornare e ritrovare una casa. Marisa Saputo, assessore alla cultura del comune di Balestrate, oggi una giornata dedicata ai giovani con dei riconoscimenti per aver conseguito la laurea nell'anno 2018. Quanti sono i riconoscimenti? Allora, i ragazzi, il bando era aperto a tutti, i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa sono 12 tra i laureati residenti nel comune di Balestrate. L'obiettivo, dico, che si vuole proporre al fine, oltre che a dare un riconoscimento simbolico a quello che è stato un percorso di studi da loro abbastanza faticoso sicuramente come tutte le cose che si conseguono, è quello di creare un registro delle professionalità per i residenti nel comune di Balestrate, augurandoci e auspicando che questi ragazzi possano naturalmente rimanere nel nostro comune e realizzarsi professionalmente qui da noi. Anche perché molti di questi ragazzi hanno conseguito la laurea fuori e sono tornati adesso nel proprio paese. Sì, sì, diciamo che molti di questi ragazzi, credo la stragrande maggioranza, hanno conseguito la laurea fuori da Palermo e oggi sono tornati per poter avere questo riconoscimento. Si trovano naturalmente durante le vacanze natalizie, questo è il motivo per il quale noi lo facciamo sempre in questo periodo e mi auguro che la laurea l'abbiano solo conseguita fuori ma che ora rimangano a Balestrate, almeno questo è il nostro, perché loro sono il nostro futuro e questo è il nostro auspicio per un futuro migliore sicuramente. Stamattina riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito la laurea nel 2018. Sì, ormai è una manifestazione che si ripete da anni e quindi ogni anno abbiamo il piacere di dare il risalto all'impegno di questi ragazzi che sono riusciti a ottenere la laurea e quindi è un vanto per il nostro paese e quindi cerchiamo di valorizzare la loro professionalità intanto con questo riconoscimento e poi cercando di trovare delle soluzioni che possano permettere un'esperienza lavorativa nel nostro territorio. E già il comune di Balestrate queste soluzioni sta cercando di trovarle. Nel nostro piccolo per quello che si può fare, noi rimarremo ancora altri tre anni e mezzo qui alla gestione della cosa pubblica e quindi è il nostro intendimento di rinnovare quello che sono le figure professionali del nostro comune. Inizieremo quest'anno con due concorsi che faremo per quanto riguarda il potenziamento degli uffici tecnici, quindi si stiamo indirizzando verso le figure direttive di ingegneri e architetti. Quindi a breve usciranno queste due bande.